Vigilia di Natale di lavoro per il Consiglio Comune di Nuoro chiamata ad approvare, tra gli altri punti all'ordine del giorno, la variazione finale di bilancio finanziario di previsione 2018-2020, provvedimento che è stato approvato alla maggioranza all'unanimità, mentre l'opposizione, al momento del voto, ha scelto di uscire dall'aula. Nel suo intervento, il sindaco Andrea Sud ha sottolineato come la variazione di bilancio rappresenta una vittoria di tutta la città di Nuoro, perché si tratta di risultati importanti dei quali beneficiaranno tutti. La variazione di bilancio che porterà in dote numerose entrate per lente, ha sottolineato il primo cittadino. Tra tutte, i 4,2 milioni di euro che rappresentano la prima transce di un piano quadriennale che assicurerà ingenti risorse per affrontare la questione dei debiti del Comune. Una battaglia, ha sottolineato il sindaco Sud, che è stata di tutti. Altre misure riguardano la voras, il plus, l'edilizia scolastica e le opere pubbliche del piano delle periferie. A breve verranno accreditati i primi 4,2 milioni di euro al Comune di Nuoro che potranno essere utilizzati unicamente per le cause di esproprio. Per i tre anni successivi la Regione ha stanziato ulteriori 50 milioni di euro da utilizzare per i debiti fuori bilancio dei Comuni. Gran parte di queste risorse andranno a Nuoro, che è il Comune più esposto dalla Sardegna. Per la voras ci sono 1.163.000 euro che determineranno l'assunzione di 82 lavoratori per 8 mesi. Per il plus l'ufficio di piano riceverà 369.000 euro che serviranno per far fronte alle situazioni di emergenza sanitaria. Sul fronte dell'edilizia scolastica invece ci saranno investimenti per 1.097.000 euro, cui si aggiungeranno 320.000 euro per le palestre della scuola media numero 1, i cui lavori partiranno a gennaio. Novità anche per quanto riguarda il piano delle periferie con l'accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di 2,2 milioni di euro che verranno investiti per le opere previste nell'artiglieria e nel mulino Galisai. Dopo anni di ristrettezza dovuta alla mancanza di risorse e ai debiti che non sono stati creati da questa amministrazione, questa città inizia a respirare e solo il primo passo ha concluso il sindaco Sotu. Ma con il nostro lavoro e il nostro coraggio stiamo garantendo un avvenire migliore e fatto di meno debiti e più risorse per programmare e dare servizi ai cittadini.